Durante il Festival dell'architettura di Ivrea questa è una delle case, uno degli appartamenti che vengono aperti alle visite guidate, è la prima volta che accade, è una casa olivettiana. Cosa significa aprirla al pubblico e far vedere gli arredi, le impostazioni anche architettoniche di qualche tempo fa? Ma devo dire che è stata una bella sorpresa per noi, non ce l'aspettavamo perché era da anni che si parlava di Ivrea, patrimonio lunesco e non arrivava mai questa. Alla fine ce l'abbiamo fatta ed è un piacere aprire le porte al pubblico, far vedere dove viviamo, come viviamo in un'architettura razionalista bellissima. e noi all'interno abbiamo cercato anche di ricreare questo ambiente molto razionale come la casa lo è al di fuori. Abbiamo visto che avete mantenuto molti dettagli originali degli anni 40, gli anni in cui questa casa è stata costruita. L'avete fatto anche per un omaggio a Olivetti immagino? Sicuramente, a parte la bellezza di questi particolari come avete visto, ma anche un omaggio era un peccato toglierli. Quelli che abbiamo potuto conservare abbiamo conservato tutto, laddove era possibile. Da cittadina eporediese, anche se acquisita come mi ha detto, pensa che finalmente il riconoscimento unesco di patrimonio dell'umanità per Ivrea possa consentire a tutti gli abitanti della città e del territorio di riappropriarsi di questa importante storia? Sicuramente, io penso che gli eporediesi non si sono mai staccati da questa grande storia. Sono attaccati giustamente, ma spero che sia un modo per farla conoscere al di fuori, sicuramente già conosciuta, ma ancora di più sicuramente. Grazie. Grazie.